Firenze sarà il più grande polo italiano di ricerca sui temi dell'invecchiamento e funzionerà come un laboratorio scientifico a tutto campo, con oltre 350 esperti di diverse aree scientifiche che studieranno come deve cambiare la nostra società con l'innalzamento dell'età della popolazione. Il programma si chiama Age IT e potrà contare su una rete di 27 partner fra università, centri di ricerca, industrie e organizzazioni con oltre 114 milioni di euro dal PNRR. Dobbiamo sicuramente fare un po' i conti con l'invecchiamento della popolazione e anche cercare di fare in modo che l'invecchiamento sia in realtà un'opportunità, quindi quello di poter anche crescere meglio i nostri giovani, i nostri bambini per arrivare poi ad invecchiare in una maniera serena e possibilmente in assenza di malattie. Nel 2050, secondo le previsioni, gli ultraottantenni in Italia saranno 7 milioni e 600 mila, 3 milioni in più di adesso. Noi dagli anni 70 facciamo pochi figli, quindi le madri oggi sono di meno. Potremmo dire non bambini cercasi, ma genitori cercasi. Se ci sono meno genitori, meno madri potenziali non possono che nascere meno figli, anche se in media si facessero più figli. Quindi le politiche sono importanti, ma dobbiamo capire che delle politiche avranno davvero degli effetti sulla natalità in una generazione tra 30 anni, quando aumentando i figli oggi questi saranno i nuovi genitori tra una generazione. E la situazione in Toscana? Toscana è una delle regioni con la fecondità più bassa, con una sopravvivenza alta, quindi è eccezionale la Toscana nell'Italia per essere una delle regioni con la popolazione più invecchiata. Popolazione più invecchiata non vuol dire solo più anziani, ma più anziani sul totale, quindi vuol dire anche meno giovani.